Si chiamava Agnes Akom, era una ragazza di soli vent'anni di età ed è stata barbaramente fatta fuori da Neculai Paisan, un uomo di 64 anni. La donna, o meglio la ragazza, è stata fatta a pezzi utilizzando una sigaretrica fatta fuori nella sua abitazione container che era stata convertita in tale modo nella parte nord-ovest proprio di Londra. Ci troviamo nel Regno Unito, precisamente in Inghilterra. Le foto sono strazianti, si vedono per l'appunto l'uomo in questione che spinge un bidone della spazzatura con dentro la ragazza in questione all'interno. La squali da casa è stato il teatro dove si è verificato, diciamo così, il tutto tra virgolette e addirittura l'uomo ha compiuto una macabra azione come questa, disfacendosi tra virgolette tranquillamente e serenamente del corpo ormai martoriato della povera ragazza in questione che, vi ricordo, aveva soltanto 20 anni di vita, di età. Insomma, una vicenda questa che sta letteralmente scioccando il Regno Unito, in Inghilterra, anche perché ci ricorda una vicenda che accade proprio poco tempo fa, in cui, in Italia, una ragazza di 25-26 anni che è nel nord Italia, in provincia di Brescia, vi ricordo che fu, come questa ragazza di 20 anni, barbaramente fatta fuori o meglio fatta a pezzi. Vi ringrazio per l'ascolto, non entro nel, diciamo così, nel nail, perché non voglio reggere le prevoci della ragazza italiana né di questa qua, inglese, però, insomma, ci sono molte simili, sembra che va di modo a fare a pezzi per tutte. Da, narrazione italiana è tutto, un saluto caro, un saluto più, grazie a tutti.